Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che vedrà correnti umidi occidentali portare degli annuvolamenti sull'Italia. In realtà non è particolarmente minacciosa, ma qualche pioggia, specie sul versante tirenico, sarà presente. Controlliamo intanto la previsione della nuvolosità. Vedete questa banda nuvolosa, aria umida che arriva da ovest, investe principalmente l'Italia centrale e in questi casi impatta soprattutto sul versante tirenico dove darà luogo anche a qualche goccia di pioggia. Vediamo infatti la previsione delle precipitazioni con queste piogge in arrivo sulle regioni tireniche, in particolare Toscana-Lazio, anche in Umbria e poi un po' di variabilità interessa anche l'estremo nord-est. Quindi in definitiva ci attende un giovedì, un po' più nuvoloso nelle regioni centrali dove appunto prevediamo anche qualche pioggia. Qualche goccia potrebbe anche valicare l'appenino e presentarsi sul versante adriatico ma in forma più isolata. Invece non mancheranno ampie zone di sereno al nord con un po' di variabilità come vi dicevo solo all'estremo nord-est e al sud ancora estate piena con sì qualche velatura di passaggio ma temperatura addirittura avvicina anche ai 35 gradi. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.